Siamo cittadini di un paese dove vediamo che la classe politica che ti tiene il potere fa di tutto per non far avvicinare gli altri. Per esempio, riguardo alle firme, un provvedimento che avrebbe potuto essere, e non è stato, era appunto la firma elettronica, la firma digitale. Quello poteva essere messo in campo e non è stato fatto. Ma dovevano essere le firme? Le firme per far sì che una lista possa essere presentata alle elezioni non dovrebbero esistere? Oppure dovrebbero esistere misura molto minore, dovrebbe essere una cosa quasi come per dire, vabbè, sfoltiamo un po' di pazzi che la mattina si alzano e vogliono presentare la lista, se no il Viminale capisci che dopo diventa praticamente una sorta di raccoglitore, no? Pensa, le liste fuori dovrebbero esserci dieci pagine. Quindi è chiaro che un minimo, un minimo di aggregazione, di capacità di aggregare le persone deve esserci e quindi è ovvio che è un riconoscimento. Però non in questo modo e poi soprattutto non con le modalità quando un governo cade a luglio, cioè non è possibile. Il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto dire no, ragazzi, data l'eccezionalità della vicenda, stavolta le firme si riducono di quattro volte. Si trova un sistema, come hai detto tu prima, un sistema più semplice invece che i soliti super mega certificatori. E quindi si trova una soluzione per permettere anche ad altre formazioni di accedere alla competizione politica. Qui si è fatto tutto da un giorno all'altro e quindi purtroppo, caro Francesco, ci sono delle grandissime difficoltà e noi abbiamo deciso, proprio nell'interesse del pluralismo e della democrazia, di dare lo spazio da qui al 20 di agosto, cioè data oltre la quale non si potranno più presentare, quindi inizia la campagna formalmente, inizia la campagna elettorale, di dare lo spazio a quelle due, tre formazioni che hanno la possibilità di raggiungere il quorum delle firme necessario per poter presentare le proprie liste in Parlamento. E quindi parleremo di questo il martedì, ci concentreremo su questo, cercare di dare al pubblico le indicazioni per andare a porre la propria firma, per aiutare le formazioni che stanno lavorando tantissimo, ma che sono costrette quindi ad un tour de force strepitoso, incredibile, direi assurdo. E del quale io credo anche dovranno rendere conto le attuali forze politiche e devo dire con tutto il grande rispetto, che sempre merita la carica, anche il Presidente della Repubblica che avrebbe potuto e dovuto, a mio parere, a mio personale parere, dare una sforbiciata gigantesca al numero di firme necessarie. Ecco, quindi il nostro dovere è da qui, alla chiusura di questa raccolta firme, ovvero all'inizio della campagna elettorale, far sì che le forze che hanno la possibilità di accedere debbano essere aiutate nell'interesse della collettività. Perché gli altri partiti non ne hanno bisogno, hanno il loro grande mainstream e soprattutto non ne hanno bisogno perché possono partecipare alla competizione senza che vi sia questo onere. Ma gli altri? La democrazia significa che non è che c'è un'oligarchia di 4-5 che governa e gli altri sono tutti esclusi. Questa operazione delle dimissioni del governo, di indire le elezioni per il 25 settembre, quindi dover raccogliere a ferragosto, ma vi rendete conto, c'è una cosa che io non... Beh, questo in realtà getta un'ulteriore ombra sulle persone che in questo momento stanno governando e soprattutto anche sui garanti del paese che dovrebbero garantire veramente maggiore possibilità di pluralismo proprio in un'ottica, un paese democratico, civile, che lascia spazio ai cittadini la decisione su chi debba governare. Quindi per questo motivo, da oggi fino a quella data, ci sarà un battaggio da parte nostra per aiutare queste forze.